I nostri incontri con Giovanni Matera. Giovanni Matera è un imprenditore, titolare della Matera Arredamenti, è un esperto di marketing, autore di numerose pubblicazioni, autore di, appunto, ha dato vita a numerosi corsi di formazione e nel suo libro, La cassetta degli attrezzi, mi ha colpito una pagina che stiamo vedendo così nel nostro video, è una vignetta in cui c'è scritto mi prendi il ragazzo a bottega? Una volta esisteva la bottega, esisteva questa prassi, ora non c'è più. Esiste un sistema un po' strano nella cosiddetta alternanza scuola-lavoro e allora la domanda che ci podiamo a Matera, ma se non c'è più questo formarsi a bottega, come possiamo formarci? Sì, no, tornare di nuovo ragazzo a bottega è impossibile perché, come abbiamo detto, il mondo è cambiato, il mondo è cambiato, quindi non bisogna dare colpa a nessuno, il mondo è andato avanti, quindi non è più possibile. Però c'è una possibilità, adesso il sistema scolastico ci sta provando con l'alternanza scuola-lavoro, ma è sotto gli occhi di tutti, ma anche degli stessi insegnanti che non sta funzionando. L'unica cosa che consiglio ai nostri ragazzi è partecipare, visto che all'interno o in attesa che all'interno del sistema formativo venga inserito quell'ora alla settimana di imprenditoria, che ripeto, che non è detto che tutti dobbiamo andare a fare gli imprenditori, ma comunque instilla alcuni concetti che magari oggi sono inesistenti nel sistema formativo. Consiglio di partecipare a dei corsi formativi extrascolari fuori dalla scuola, molte volte sono anche a costo zero, su internet c'è di tutto e di più, in modo che capito che il tipo di formazione che vi dà la scuola, però bisogna prima capire questo, che il tipo di formazione che vi dà la scuola quando sarete belli e laureati avrete questo problema, di questa mancanza, di questi dati, nel frattempo già dalle medie superiori cominciate a frequentare in alternativa a dei corsi formativi che poi sono fatti di un'ora, due ore, tre ore, non è che si tratta di andare parallelamente a un'altra scuola, ma partecipare e così instillarvi anche di questi concetti qua. Noi il mestiere ce l'insegnava il maestro, il maestro ci insegnava la famosa conoscenza implicita, cos'è la conoscenza implicita? Quella che impari stando a gomito, gomito a gomito col maestro, che ti stilla, che ti fa nascere il fuoco dentro del mestiere, oggi purtroppo non c'è più, oggi esiste la conoscenza esplicita, quella che puoi trovare sui libri, su internet, che è massificata, che è uguale per tutti, quella oramai non c'è più, ripeto, consiglio di partecipare a dei corsi formativi esterni, concetti che all'interno della scuola non vi saranno mai comunicati, prendeteli all'esterno, in modo che quando, come è successo a me, io vi porto il mio esempio, io quando mi sono diplomato avevo il diploma da tecnica industria meccanica, ma avevo anche il mestiere, potevo scegliere, ho scelto di continuare il mio mestiere, sono poi diventato imprenditori, sennò sceglievo di andare all'università, ecco, volevo una cosa quasi uguale così, il mio auspicio è che un laureato, masterizzato anche, uscisse dalla scuola, sì è vero, posso andare a fare i concorsi, posso andare a fare il dipendente, però nel frattempo ho acquisito anche dei dati durante il percorso, perché non metto su una nuova start up, perché non metto su una mia azienda, perché non creo io qualcuno, e questo mi piacerebbe, sarebbe, io parlo nel mio libro, parlo molto di sogni, beh, questo è un sogno veramente forte per me.